Occhi aperti per quei goblin. Stando ai rapporti, sono in quest'area. Da qui in poi è tutta palude. Fate attenzione, signore. Come non farlo? Direi che questo non è proprio un sentiero ben tenuto. E chi credi che lo manterrebbe qua giù? Sono tutti scappati dalla piaga. E pensare che un tempo qui era abitato. Il vecchio villaggio della Bonaccia è più avanti. O almeno quel che ne resta. Ogni ragione. Ehi. Sì, non è vero. Seguitemi. Goblin. I rapporti non mentivano. Sì, proseguiamo. Forse ce ne sono altri. Benvenuti alla bonazza. Prudenza, mio signore. Ecco ne altri. Ora è per sempre! Finita! C'è, mio signore. C'è, mio signore. C'è, mio signore. Fate attenzione. Alcuni di loro utilizzano la materiale. Non sono pochi. Non sarà uno scontro fatto. Non ti rialzare! Non ci rialzare! Non si rialzare! Non ci rialzare! E voi, mio signore. Dovremmo essere vicini alla piazza principale del villaggio. Beh, potrebbe non essere un cubo di goblin. Luridi schifosi. Siamo in trappola, mio signore. Sto pensando. Quello è il capo. Prima, però, dobbiamo occuparci degli altri. Vogliamo sfoltirli un po'? Che domanda scontata! È un mio spettacolo, mio signore! Sta giù! Ce n'era un altro. Merda! Ha chiamato un amico! In piedi, Sir Wade. Preparatevi! Rifondatore! Alla faccia del pettacolo! Se ne carica un altro, state pronti a schivarlo. Non lo faccio ripetere. Non la faccia della mano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Torna qui e combatti, codardo! Inseguiamolo, prima che chiami anche gli altri! Grazie a tutti. Eccolo lì! Cavallo! Cavolo! Facciamo la finita. Una cosa! Oh, per la miseria! Un morbolo! Così assurdo! State alla larga dalle sue falci! Il soffio di quel coso è peggio del suo morso! Ho detto di stare alla larga dalla sua bocca! Sì! Sì! Grazie a tutti. Non ho la più fallida idea. Non lo farai! Ora! Prima che si riprenda! Non lo farai! 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 Non posso morire qui! Un ultimo sforzo, mio signore! 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 Grazie. Chi l'avrebbe mai detto? Non bastava la presenza dei Goblin qui. Ci mancavano i Molboro. Chiederò a sua grazia di inviare un contingente. Se non li fermiamo qui, presto li avremo ai nostri cancelli. Dobbiamo muoverci. È meglio andarsene prima del tramonto. Se partiamo immediatamente saremo a Porta Fenice prima di sera. dannata piaga. Allora... 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 Grazie a tutti.